musica il muro è cominciata a lacrimare perchè? cosa hai detto? Ma te ce l'avevi all'elementare Sì Era normale Ma di problemi Ma di problemi No ce l'ho già Io devo ancora prendere una Eh appunto dico ecco perché voi sei triolo No no Arrivo Viene l'acqua Non sarei l'acqua mi tipo quando male No No Ma non si Ma 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 Li Un No Gabri Ciao 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 Cabri Ciao Stuta Certo Certo Non Non Certo 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 E' il mio robot va! C'è la ruta di Nikolaus? No 38 Quante cacca c'è da viene? Non c'è... C'è questo... Mi posso protetto la mia ma mi sto protetto 2 monodi Non spara da le NPC che spara stò a a la vera che mi devo abbandonare il tutto a me a me non muoio 100 che palle 99 eh lo sapevo che mi sei grato preso ah le sei grato e ne c'è spuglio preso anche sto stronzone grande gabi via le schede veloce scappa quella di simone è su la mia è giù la mia è presa no gabi vai via sono in due aspetta a salire di morali via dio mi ha detto via via senza munizioni sono anni presi la scampa lo vado a prendere grandissimi andiamo alla fronte a Nicolausen va ultima partita con Ronan Zer prima di arrivare la scuola stau 1 6 e 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1